per me la leggerezza conta tantissimo anzi è stato il mio marchio di fabbrica per tutto questo tutto questo tempo tutti questi anni cerco di essere leggero per durare di più nel corso della gara quindi è proprio la sensazione di pesantezza l'opposto di quello che ricerco e voglio essere leggero sull'acqua la sensazione deve essere come quella di volare sull'acqua di essere molto alto sul pelo dell'acqua